L'Umana Reia è orgogliosa di poter partecipare alle iniziative che promuovono e sono dedicate alla prevenzione delle malattie cardiovascolari. Per prima cosa, perché essendo il marchio sportivo di riferimento del territorio, ci sentiamo responsabili di sensibilizzare su un argomento tanto delicato come questo. Noi come Umana Reia, al pari di tutte le società sportive e professionistiche, abbiamo l'obbligo di fare effettuare l'IPS di controllo a tutti i nostri atleti, ma il messaggio che vogliamo inviare con questa partecipazione è rivolto soprattutto a tutti i praticanti, sportivi ed amatoriali, dilettanti che tengono in forma il proprio cuore tramite attività sportiva. La prevenzione è fondamentale quanto la pratica stessa, anzi di più, è un semplice controllo che può salvare la vita, poiché sa dire se il tuo cuore è pronto per sostenere lo sforzo ed allenarsi oppure no. Nella giornata di minuto di 25 ottobre, l'ospedale all'Angelo di Mestre, il reparto di cardiologia, sarà aperto a tutti coloro che vorranno eseguire gratuitamente anche un elettrocardiogramma, uno screening dei fattori a rischio cardiovascolari ed un colloquio con il cardiologo. Allena il tuo corpo, allena il tuo cuore. Metti al sicuro il tuo cuore, inizia da giovane. Scegli lo sport, scegli la vita. Con il cuore si gioca, non si scherza. Il cuore ti allunga la vita, mettilo al sicuro. Grazie Grazie.